Allora, cercherò di spiegarvi perché vi stanno raccontando un sacco di frottole con dei nomi altisonanti. Lo chiamano cashback, in realtà è un aumento dell'IVA, bello e buono. Cosa succede? Adesso le ipotesi sono ancora varie. Voi pagate l'IVA del 10%, non so, sul caffè, e loro la porterebbero al 12. Voi pagate il 22% dell'IVA, non so, su questi occhiali, e la porterebbero al 24. Partiamo dalla cosa più semplice, partono dal 10 e la portano al 12. Però vi dicono, se pagate con la carta di credito o col Bancomat, voi pagate il 12% e poi, alla fine del mese o alla fine dell'anno, noi vi diamo indietro il 3%. Semplice, facile, anzi ci guadagnate, perché voi pagate subito il 12, ma in realtà, con il cashback, con il ritorno del 3%, avreste pagato un IVA del 9%. Tutti felici? Lo Stato è contento? Vi stanno prendendo per i fondelli, e ve lo spiego perché. Ed è semplicissimo, ed è limpido. Intanto, quelli che pagano con i contanti questo sconto fiscale non ce l'hanno. Quindi, quando voi andate a prendere il caffè e dovete pagare un euro, quell'euro, ovviamente, lo pagate cash, così come se dovete prendere 4 banane al bar, al mercato. Insomma, i piccoli acquisti, al 10%, diventano al 12%. Non ci sono cazzi, perché non riuscite a pagare col banco, per praticità? E anche perché in Italia ancora ci sono 15 milioni di persone, e me, magari sono scese, che non hanno un conto corrente bancario. Seconda questione, voi vi fidate di uno Stato per il quale voi pagate con la carta di credito e poi vi dice, alla fine dell'anno, oppure mese per mese vi restituisco il 3%, è lo stesso Stato che non dà i soldi ai propri fornitori, che è in ritardo con i pagamenti, è lo stesso Stato che il credito IVA col cavolo che lo paga alle imprese, nonostante lo abbiano ed è enorme, è quello stesso Stato per cui avere una carta elettronica digitale ci ha messo anni e ancora non ce l'abbiamo. Bene, voi vi fidate che vi daranno indietro questi soldi? Sulla carta, certamente sì. Poi alla fine vi diranno, non avete pagato le tasse, quindi non ti ridò i soldi, non avete pagato la multa e quindi non ti ridò i soldi, oppure ti diranno, te li ridò, ma soltanto se. Insomma, alla fine questa partita sarà un'enorme entrata per lo Stato, con una certezza. L'IVA passa al 12, lo sconto del 3 forse vi arriva se pagate con la carta di credito, e tutto per che cosa? Per ridurre il cuneo fiscale, con una piccola differenza. L'IVA la pagano tutti, il cuneo fiscale ovviamente, cosa giusta e sacrosanta, abbassarla come tutte le tasse vale solo per i lavoratori, quindi con questo grande governo di sinistra facciamo pagare un po' più di IVA a tutti, soprattutto se hanno le American Ex Splatino e le Nexi Nere, e invece non facciamo pagare ai lavoratori, riduciamo un po' il cuneo fiscale. Quindi, lo capite, trasferiamo dei soldi dall'IVA, alcune fiscale dagli inattivi o potenzialitari a quelli che un lavoro ce l'hanno, e questo è il governo giallorosso. Questo è un governo che sull'IVA vi sta prendendo per i fondelli.